Sabato giornata difficile per l'End Bolerice che ha perso il confronto con il Mestrino con il punteggio finale di 13 a 20. Al Palacardella una sconfitta netta per le Neroverdi che hanno subito la difesa della formazione veneta che ha meritato il successo dell'incontro. Le tante precisioni in attacco e la poca circolazione della palla sono state decisive nella sconfitta delle Arpie. La formazione ospite invece ha trovato le proprie fortune grazie alle parate di Luchin. Con questa gara persa si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dell'End Bolerice che resta comunque tra le prime quattro formazioni del campionato di Serie A di pallamano femminile. Ascoltiamo Anna Raic, protagonista del torneo bianco-verde. Beh, dovrei ricordare di nuovo la partita per vedere tutti i errori, però posso dire che non abbiamo fatto quello che ci siamo messi d'accordo. Le ragazze di Mestrino si vede, si sono proprio preparate per la nostra partita, hanno giocato benissimo. Noi sinceramente non eravamo al livello e per questo è questo il risultato. Abbiamo sbagliato moltissimo, adesso a memoria non è che so ogni errore, però non abbiamo giocato bene come sappiamo fare.